Consigliere Pignoli avete presentato degli emendamenti migliorativi per quanto riguarda la gestione dei cimiteri di Pescara da parte della Municipalizzata Attiva. Di cosa si tratta nel concreto? Sono circa 24 emendamenti, i primi 20 sono di carattere formale e invece gli ultimi 4 sono di carattere sostanziale, quindi andiamo sulla sostanza in poche parole. Ormai tumulare un proprio carro è diventato una spesa troppo importante per i pescaresi, per cui abbiamo dato la possibilità al dirigente Attiva di concordare delle agevolazioni particolari per le persone che non si possono permettere di tumulare il proprio carro. E quali potrebbero essere le agevolazioni? Quella ad esempio di pagare un po' al mese la tumulazione del proprio carro. La seconda è l'indulazione in un altro front office, l'apertura di un altro front office di Attiva. Noi riteniamo soprattutto per le persone anziane che si debba, e quindi è stata accettata dal Consiglio Comunale, l'apertura di un altro punto ufficio nella zona nord della città in modo che sia più fruibile ai cittadini di Pescara. Il terzo emendamento è, abbiamo ricevuto sempre segnalazione da parte cittadini della sporcizia dei cimiteri e che i cimiteri non sono curati. Ebbene da oggi in poi Attiva ogni tre mesi dovrà rimettere un accurato e dettagliato rapporto di quello che ha fatto in termini di opere manutentive all'interno del cimitero, indirizzata al sindaco, all'assessore competente, al presidente della commissione dei lavori pubblici e cimiteri. La penultima è quella degli orari. L'ultima, per finire, è quella relativa al bando. Attiva la gestione fino al 2022. Qual è la questione? È che, avendo la gestione, noi abbiamo dato mandato agli uffici di preparare una gara pubblica. La gara pubblica chi ne beneficia? Chi usufruisce i servizi? Chi è che usufruisce i servizi? I cittadini di Pescara. Per cui ci sarà una situazione positiva rispetto a questa cosa.